Appena una settimana fa la lettera intimidatoria contenuta in una busta recapitata alla sede del comando dei vigili urbani nel quartiere di Villa Seta. Questa volta invece le lettere con insulti, improperi e minacce sono state spedite e recapitate al diretto domicilio del comandante della polizia municipale Cosimo Antonica. E stavolta la denuncia all'autorità giudiziaria il comandante Antonica l'ha presentata a titolo personale. Una nuova intimidazione, un nuovo inquietante messaggio, frutto probabilmente della stringente attività di controllo e repressione dei vigili urbani che hanno avuto un nuovo impulso proprio da quando si è insediato l'attuale comandante Antonica. Una molteplicità di iniziative, dalla lotta a commercio ambulante a quella dell'abusivismo edilizio, passando attraverso la tolleranza zero nei confronti delle violazioni al codice della strada, attività a tutto campo che evidentemente danno fastidio. Solidarietà per l'incresciosa circostanza da parte della pubblica amministrazione. Immediate le reazioni e le condanne, il sindaco di Agrigento, Marco Zambuto, in una nota espresso la più piena e convinta solidarietà al comandante della polizia comunale Cosimo Antonica, riunirò d'urgenza la giunta comunale, sottolinea, per intraprendere le iniziative più utili ed immediate a sostegno di tutto il corpo della polizia locale e del suo valido comandante. Al sindaco si aggiunge il presidente del Consiglio Comunale, Francesco Alfano, che a nome personale dell'intero consesso ha manifestato appoggio al comandante Antonica, condannando questi atti come sporchi tentativi per impedire al corpo di agire nel rispetto delle leggi. E messaggi di solidarietà e condanna per le pesanti intimidazioni anche da parte dei candidati a sindaco di Agrigento. Non ci faremo intimidire e andremo avanti. E' questa la risposta secca del comandante, al quale ovviamente tutto il corpo di polizia ha espresso ampia solidarietà. Grazie. Grazie. Grazie.